E' scattato ieri sera alle 19 sulla rete ordinaria e alle 22 sulle autostrade lo sciopero dei benzinai, fallito il tentativo in extremis del ministro Urso di trovare un'intesa, ma il fronte dei esercenti si divide con la FIB che riduce a un solo giorno la mobilitazione. Gli impianti di rifornimento carburanti rimarranno per lo più chiusi, compresi i self-service per 48 ore consecutive, ma nonostante la mobilitazione dei benzinai, agli utenti devono essere garantiti sia in città che in autostrada dei servizi minimi di rifornimento. E mentre in corso lo sciopero dei benzinai continua a salire il prezzo dei carburanti. Nuovi rialzi sono stati registrati questa mattina sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Salgono con forza anche le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Con la benzina in fai-da-te sopra quota 1,85 euro per litro e il gasolio a un passo da 1,9 per litro, livelli che non si vedevano da fine luglio. Intanto a Napoli sono 15 distributori aperti tra rete autostradale e tangenziale come comunicato dalla prefettura, mentre una quarantina quelli su rete urbana, tra capoluogo e provincia.